risparmiare e l'imperativo anche per l'anno appena iniziato l'università di foggia ormai da due anni combatte contro i tagli del governo chiudendo i rubinetti come si dice in gergo e pensando bene a cosa e quanto spendere nel 2010 l'ateneo ha perso 2 milioni di euro e quasi il doppio quindi 4 in due anni nel 2009 e nel 2010 un taglio commenta il tg blu il rettore volpe pari al 3,7 per cento e il 2011 si preannuncia già come anno orribilis si parla di un ulteriore taglio del 4 e 5 per cento pari a 3 milioni di euro l'università di foggia nonostante ciò lo scorso anno ha risparmiato un milione e mezzo di euro frutto continua volpe di una politica di rigore il rettore guarda l'anno appena iniziato con un pizzico di soddisfazione perché il bilancio preventivo è in pareggio e questo consente all'ateneo di non lavorare con affanno altro dato positivo è legato al numero delle immatricolazioni al momento l'ateneo conta 12 mila studenti e la crescita è stata del 30 per cento vanno bene le facoltà mediche lettere scienze della formazione ed economia male invece giurisprudenza dove si registra un calo delle iscrizioni motivo di orgoglio per l'ateneo e la ricerca che afferma volpe è cresciuta del 50 per cento nel 2010 lo testimoniano i passi che l'ateneo muove a livello nazionale ed europeo l'ateneo muove a livello l'ateneo muove a livello nazionale ed è un'ateneo muove a livello nazionale ed è un'ateneo